e siamo live buonasera benvenuti abbiamo il grandissimo piacere questa sera di avere qui con noi alexandra rosado direttamente dalla spagna da madrid alexandra rosado è critica di cinema attrice poetessa ricercatrice spirituale e insegnante di yoga buonasera buonasera a tutti e grazie claudia per l'invito grazie a te di essere con noi allora mentre aspettiamo un pochino che le persone entrino alexandra ti volevo chiedere per rompere un po il ghiaccio come la disciplina dello yoga ha effettivamente cambiato la tua vita allora lo yoga cambia infatti nella tua domanda effettivamente c'è anche la risposta e l'essenza cambia perché nel mio caso mi ha aiutato a essere molto vagamente più positiva più concentrata più in salute più felice più propensa a darmi delle risposte a delle domande e quindi e lo yoga aiuta in questo sostanzialmente a focalizzare la mente sulla positività e a darti una sorta di pace interiore perché ti aiuta a queste risposte che ti dicevo le risposte e alle domande le domande naturalmente sono quelle che sappiamo perché e che quasi tutti ci facciamo perché siamo qui che significato alla nostra vita dove andiamo perché la morte perché la sofferenza perché ecco le ingiustizie e quindi a tutte queste domande che a un certo punto della nostra vita sorgono ahimè perché in realtà lo stato primordiale dell'essere nella nostra infanzia realmente non ce le facciamo viviamo ci lasciamo fluire e senza troppe domande però quando sorgono queste domande così importanti realmente il nostro essere cerca delle risposte nel mio caso lo yoga mi ha aiutato a darmi queste risposte quindi a placare questa sete di risposte sostanzialmente grazie mille allora per iniziare ad entrare proprio nel vivo di questa materia appunto che è lo yoga che sembra non avere mai fine nel senso che continuiamo a parlarne ma sembra quasi e non avere né capo né coda più ne parliamo più ne vogliamo parlare più abbiamo da imparare in qualche modo allora questa sera nuovamente ci immergiamo nella profondità dello yoga per entrare proprio nelle dinamiche che descrivevi un attimo fa quindi nel qui e nell'ora ti andrebbe di fare un esercizio insieme a noi di fare qualche cosa che ci porta proprio all'attimo presente sì va bene possiamo fare allora in realtà è un esercizio di pranayama che nel qui a ora meglio del respiro non c'è niente perché tutti respiriamo il grande sconosciuto della nostra civiltà occidentale perché sempre andiamo di fretta no quindi soffermiamoci sul fatto che respiriamo che è molto che realmente è la cosa fondamentale e nello yoga e quindi un esercizio di pranayama che ci può realmente esatto portare nel qui nell'ora che realmente poi avrà che vedere con con quello del quale parleremo e quindi farei il nadi sodana nadi sodana è o cosiddetto o respirazione alternata utilizza le due fosse nasali cioè andiamo andiamo e se facciamo adesso qualche minutino assieme faremo qualche ripetizione assieme se vogliamo alterniamo la respirazione nelle due fosse nasali quindi destra e sinistra come ci aiutiamo ci aiutiamo con un mudra per esempio in realtà ci sono diverse possibilità di mudra però oggi magari mi viene comodo perché realmente il mudra in questione è visnu mudra apriamo quindi la nostra mano abbassiamo indice e a dito medio quindi rimangono liberi anulare e mignolo per poter quindi sostanzialmente le due dita le appoggiamo al nostro al nostro centro della fronte quindi in realtà al terzo occhio se vogliamo essere più precisi per dare ancora più concentrazione quindi abbiamo anulare e mignolo che ci serviranno per chiudere la fossa nasale sinistra e il nostro pollice per chiudere la fossa nasale destra ora quindi sarà un gioco di alternare sostanzialmente la respirazione da una fossa all'altra e come facciamo partiamo innanzi innanzitutto chiudendo una fossa la destra e faremo un'ispirazione con la fossa nasale sinistra inspiriamo quindi tappiamo con i nostri diti e con le nostre dita pardon e respira esaliamo l'aria dalla nostra fossa nasale destra ri inspiriamo naturalmente chiudiamo e quindi espiriamo e inspiriamo ovvero ciclo quindi di ispirazione un respiro è formato da ispirazione ed espirazione e lo andiamo alternando possiamo ripeterlo sette volte due quattro sei e sette ecco questo esercizio ci serve sostanzialmente per riequilibrare due importanti energie che scorrono nel nostro corpo e anche perché per riequilibrare soprattutto la respirazione la respirazione sorprendentemente non avviene per tutte contemporaneamente nelle due fosse nasali nello stesso momento e quindi questo ci aiuta a riequilibrare questa respirazione quindi sostanzialmente i due canali abbiamo due canali che nello yoga sono ida e pingali e riequilibrare questa energia quindi è un ottimo esercizio per diverse ragioni uno perché appunto equilibrando queste due forze e questi due flussi di respiro aiutiamo il nostro organismo a concentrarsi a riappacificarsi con diverse energie per così dire grazie mille allora entriamo proprio nel vivo della questione tutti parlano di yoga in questo momento storico tutti fanno yoga un po tutti insegnano yoga è un fenomeno che sta diventando quasi un fenomeno di massa il che da un lato è assolutamente positivo perché vuol dire che l'umanità è pronta ad abbracciare un altro tipo di cultura però dall'altro è vero anche che dello yoga come era in origine è rimasto poco allora ci puoi delucidare su cosa effettivamente è lo yoga perché c'è la tendenza a pensare in occidente che sia una ginnastica psicofisica ma sappiamo che è molto più di questo allora sì realmente lo è si viene con i grandi maestri lo yoga arriva in occidente e soprattutto effettivamente gli occidentali noi occidentali prendiamo l'aspetto fisico perché effettivamente è preponderante no preponderante perché gli yogi utilizzano questa pratica eh fisica da moltissimi anni realmente per agire su sulla mente e su su altre energie come ti dicevo prima e lo yoga allora nella sua accezione più comune conosciuta planetaria e dal dall'etimologia dello del 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 sanscrito è un'unione no quindi nel significato è un'unione di cosa nella sua accezione più eh più spicciola appunto sarebbe però mente e corpo no perché realmente con la mente noi governiamo questo corpo e e nella sua accezione più fisica lo vediamo tutti i giorni quando vediamo queste eh questi yogi questi adepti che eh praticano yoga controllano con la mente controllano il corpo quindi lo vediamo in questo senso è la prima il prima la prima che ci salta subito alla alla agli occhi no nell'osservazione di cosa è lo yoga sapendo che è unione però realmente è l'unione di qualcosa di più profondo e realmente è l'unione della nostra mente del nostro corpo e della nostra anima però non solo con la nostra con quella universale da lì nasce quello che è prima di tutto il riconoscimento di questa anima cosa abbastanza complicata per noi perché spesso la ne parliamo in realtà nella cultura cristiana sempre si parla di spirito però poco viviamo con questa presenza dello spirito però questo è un altro argomento comunque forse anche per assenza di ritualità che evidentemente la nostra società eh è sempre assetata no è affamata di ritualità perché realmente è il nostro spirito che cerca una certa ritualità e quindi lo yoga è un'unione un'unione è la ricerca di questa unione quindi è la maniera che che questa meravigliosa filosofia ha trovato per poter ricordare agli esseri umani che sono emanazione di una di una fonte di una sorgente unica e noi e quindi lo scopo è riunirsi riunirsi innanzitutto a questa consapevolezza che non è facile certo c'è chi lo considera addirittura pericoloso a tal proposito vorrei entrare nell'altra parte della serata abbiamo intitolato la questa serata yoga esoterico perché volevamo svelare qualche trucco qualche segreto esoterico è una parola che spaventa molto le persone ma abbastanza ingiustamente no esoterico esoterico sappiamo che non c'è niente di pazzesco di cui aver paura quindi perché questa parola è così temuta è così poco conosciuta cosa vuol dire esoterico allora naturalmente esoterico dalla radice greca è proprio ciò che è interno quindi in realtà segreto rispetto all'esoterico quindi in realtà con con questo aggettivo descriviamo sostanzialmente tutto ciò che è nascosto ai più che è occulto ecco perché da lì una certa come come tu dicevi cattiva fama no di qualcosa di in realtà il termine in se stesso è recente come esoterismo come corrente come aggettivo a una lunga tradizione che risale ai greci a pitagora a platone aristotele perché le conoscenze esoteriche venivano trasmesse a pochi iniziati da lì questa questa esatto questa fama sicuramente occulta e misteriosa perché perché logicamente poi sapendo anche che la santa inquisizione certi momenti della nostra storia più oscuri hanno come dire posto messo il dito su certe su certe conoscenze da lì evidentemente ancora questa idea e si mette nel calderone dell'esoterismo realmente spesso l'alchimia l'astrologia la magia e da lì ecco questa cattiva fama realmente e l'esoterismo è proprio il tenere occulto ai più una certa certe conoscenze a volte sono rituali a volte sono pratiche come come nel caso dello yoga pratiche proprio esplicite di come di come fare delle cose di quindi delle ritualità certo visto che l'hai nominato uniamo queste due parole quindi lo yoga esoterico che cos'è allora lo yoga esoterico per alcuni lo stesso yoga è in se stessa come dire eh proprio la quintessenza dell'esoterismo vorrei dire perché effettivamente per noi occidentali è un cumulo di pratiche e di ritualità che realmente le migliori sono occulte no a a a chi naturalmente si avvicina la disciplina e da una parte meglio così adesso forse te lo spiegherò meglio meglio così perché naturalmente laddove si possono conoscere delle tecniche eh di controllo superiori delle forze universali e delle nostre forze perché in realtà come come sopra e sotto per citare ermete termiagisto quindi voglio dire realmente noi se controlliamo le nostre forze riusciamo anche a a governarne altre no quindi da lì e quindi da lì la lo yoga eh realmente è esoterico perché ha molti segreti ai più che pratichiamo eh in questo il il cammino è lunghissimo lo yoga è una vita e forse anche più no chissà se magari eh da altre vite possiamo eh riavere conoscenze nel senso che è veramente un largo cammino e quindi ai più certi segreti e certe conoscenze non vengono trasmessi naturalmente e e da una parte è bene che sia così però questo naturalmente lo sappiamo che anche la nostra cultura le come dire le le parti migliori non so se pensiamo a nella nostra cultura per esempio per quanto tempo la pietra filosofale no nel discorso della eh come trasformiamo no il il più il 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 più il plomo lo dico in spagnolo pardon che il mi sfugge adesso l'italiano in oro no il piombo in oro no la il metallo grezzo nel metallo più che poi è una grande metafora no dell'alchimia ecco quindi eh voglio dire da sempre queste conoscenze non vengono trasmesse e nello yoga lo stesso e quindi parliamo di yoga esoterico e stasera perché perché mh perché eh vi sono alcune come dire tu mi hai appunto invitato chiamandomi l'attenzione richiamandomi l'attenzione su questa parte più segreta dello yoga ok allora vogliamo svelare ma ancora non troppo vediamo più avanti ahm allora c'è una cosa della quale vorrei parlare con te io vabbè mi interesso anch'io insomma queste materie da da qualche anno prima ero abbastanza materialista nel mio modo di essere e ehm volevo raccontarti che un paio di settimane fa credo di aver vissuto eh quello che eh chiamano viaggio astrale notturno sono passata per un sogno lucido e poi un eh viaggio astrale credo non ne sono certa ho visto qualche documentario ho letto qualcosa in merito e credo che le cose che ho visto mi abbiano confermato che ehm che l'esperienza che ho fatto possa essere si possa definire così ok ehm anche questo è un mondo che ci appartiene perché il mondo eh della materia è qui ma anche quello sottile è qui a un centimetro da noi non è distante nel mondo yogico si dice spesso appunto nel mondo spirituale in generale che c'è questo cordone d'argento che ricorda un po' il cordone umbilicale materno che ci lega al nostro corpo astrale allora nello yoga e nello yoga esoterico si parla di levitazione del corpo astrale ci vuoi parlare un po' di questo? Allora sì ehm bellissima domanda perché anche a me interessa l'argomento da sempre ehm da sempre nel senso vabbè proprio da sempre però nel senso che credo che anche questo affascina molto perché come hai detto tu ci sono momenti della nostra vita dove lo palpiamo realmente a volte sono quelli proprio in coincidenza del sonno infatti anche poi il sonno il capitolo del son del sonno sogno non a caso calderon della barca la vita è sogno e un sacco di arte ha disquisito su sulla materia dei sogni per poi arrivare naturalmente al grande Freud e tutto lo studio e Jung sulla parte onirica no? Però perché attira molto l'attenzione? Perché effettivamente tutti lo viviamo in certi momenti abbiamo questa percezione di passaggio no? Dove di passaggio di una percezione diversa del nostro corpo. Ora cosa è il corpo astrale? Il corpo astrale per la filosofia yoga è il doppio del nostro corpo fisico però partiamo da una premessa il corpo fisico cos'è? Il corpo fisico per lo yoga è un grande magnete è una calamita e perché come la terra abbiamo due poli naturalmente il positivo e il negativo come sempre ritorna come sopra e sotto no? Quindi ritornano le quindi anche anche l'essere umano in ogni e anche diviso sempre presenterà due poli il negativo e il positivo da questo cosa ci rendiamo conto che all'essere un magnete in realtà questa nostro corpo fisico emana delle vibrazioni delle vibrazioni quindi ha un campo magnetico intorno. Questo campo magnetico che è proprio il corrispondente del nostro corpo è il corpo astrale. Si può anche vedere in alcune culture si parla anche di aurea no? Effettivamente è quello che noi trasmettiamo è l'energia vibratoria del nostro corpo fisico. Ora cosa succede? Che questo corpo astrale naturalmente gli yogi sin dagli antisimi tempi sono riusciti con diverse tecniche uno il pranayama che naturalmente non sono segrete ed è bene che siano segrete queste tecniche di pranayama per poterlo levitare quindi staccare no? Come tu hai detto con questo cordone d'argento. Questo cordone d'argento più è in prossimità del nostro corpo fisico più sarà spesso. Dicono che è un po' più spesso le fonti di un pollice a un colore grigio biancastro appunto argento e più si si allontana e più si rende sottile. Ora quindi capiamo bene che se si recide la vita si interrompe ovvero in questa levitazione che passa attraverso il controllo cosciente scientifico parlano le fonti dei grandi maestri perché proprio gli yogi che cosa fanno di curioso rispetto alla cultura occidentale e questa è la cosa più interessante e più la più grande novità studiare in maniera scientifica il respiro sicuramente i grandi maestri della nostra cultura occidentale lo hanno fatto grandi maestri mi riferisco alle grandi personalità da Socrate a Gesù Cristo dei nostri della nostra cultura sicuramente lo hanno studiato in maniera scientifica il nostro respiro però noi no e quindi l'evitazione del corpo astrale attraverso pratiche sedimentate e occulte di pranayama e proiezione del corpo astrale ovvero gli yogi come lo proiettano noi abbiamo detto che riusciamo in questi momenti che a volte sono tra la veglia il sonno ad avere queste sensazioni a volte possono essere di vertigini un altro momento fondamentale e non a caso è o dell'infanzia e bambini quando girano su se stessi in questo girare su se stessi per hanno le vertigine ce lo ricordiamo poi scusami scusami se ti interrompo questo girare dei bambini ricorda poi la danza dei suffi se non sbaglio è la stessa identica di naika bravissima anche gli yogi ce l'hanno e da lì vabbè già che siamo in italia il nostro grandissimo battiato in una canzone famosa che forse i più ricorderanno voglio vederti danzare nello stesso video no e avendo poi dopo lui passato a questa religione i dervish voglio dire in moltissime trasversale nelle culture il fatto di girare su se stessi porta come dire più facilmente a proiettare questo corpo astrale che è come un grande involucro delle energie di vibrazioni dal nostro corpo a distanziarlo bene in questa proiezione logicamente gli yogi i grandi maestri si sono specializzati ecco perché da lì a volte si è parlato di miracoli perché cosa sono in grado di fare cosa sono stati in grado di fare di trasportare il loro corpo astrale che però lo dopo si può tradurre in una in una manifestazione fisica a distanza sicuramente gesù era maestro in questo tutti i miracoli buona parte dei miracoli di gesù sono semplicemente questa un gran grande conoscenza di queste leggi universali di questi segreti sostanzialmente e e quindi il cordone d'argento ebbene per per i più non praticare questa questo distanziamento del corpo astrale sia sottiglia più lontano va e quindi è molto importante che il cordone rimanga integro per non perdere la vita logicamente va trattato bene la nostra materia più sottile va rispettata bisogna prendersi cura anche di questo allora parlando eh scusami volevi terminare no no da lì il grande rispetto vedi la in questo senso l'importanza di tenerle occulte vedi che in realtà è proprio chiaro che ha una ragione anche eh fondamentale di 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 non diffondere ai più cose che potrebbero essere anche pericolose ai più a tal proposito mi viene in mente il libro che ha scritto il grande young che citavi prima sul Kundalini yoga eh il Kundalini yoga che è lo yoga tra l'altro che pratico anch'io è una forma di yoga molto particolare ma tutte le forme di yoga in realtà poi si rifanno a questa Kundalini che è l'energia racchiusa nella nostra spina dorsale e eh la Kundalini è simboleggiata da questo serpente questo serpente nella persona dormiente sta a testa in giù quando si risveglia la Kundalini il serpente si rovescia e mette la testa verso l'alto quindi passando dal chakra più basso al chakra più elevato vuoi parlarci un po' di di questo? Sì allora guarda questo proprio si corrisponde Claudia con è molto interessante come realmente questa metafora realmente parte e dalla dalla fisiologia nostra e dalla magnifica fisiologia e dai disegni che contiene il nostro corpo corrisponde alla forma dei nostri nervi dalla allora dal plesso ehm sacrale dove è appunto assentato il nostro coccige la base della nostra spina dorsale e lì appunto pare che pare ci dicono che dorme questo serpente ora tutta la eh come dire tutto il circuito dei nervi e la meravigliosa forma dei nervi che salgono verso l'alto rappresentano quello che è l'albero della vita tutto quello che scende dal plesso dal presso sacrale eh o pelvico in giù rappresenta l'albero della conoscenza del bene o del male da lì la doppia vertente di questa famosissima Kundalini perché è vero che ha come dire c'è stato come dire un periodo lo yoga Kundalini si è diffuso abbastanza tappeto e ha preso piede in un certo senso ed è allora perché perché logicamente l'energia sessuale parliamoci chiaro però che ha due vertenti no l'energia sessuale perché da lì la grande curiosità noi come come occidentali realmente siamo in questo senso attirati da quello ma è naturale da quello dal quale veniamo quindi ha due vertenti vertenti una è la 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 parte bassa ovvero come ti dicevo l'albero della conoscenza del bene o nel male che porta ecco a sorprese poco edificanti come la lussuria e la morte infine se si è lasciata ecco se questa energia cade verso il basso o se no come tu ben dicevi se se ascende ascende all'albero della vita quindi irrealmente alla sublimazione di questa potente energia e quindi alla conoscenza nella sua accezione più pura perché la conoscenza appunto della creazione è la forza creatrice però è anche la forza distruttrice non a caso scorre in quello che è il canale abbiamo prima accennato facendo la respirazione nadi sodana di ida e pingala pingala è la corrente positiva perché parlavamo che era un magnete non il corpo abbiamo e quindi come siamo dei magneti ci dividiamo in positivo e negativo la nostra parte destra corrisponde a pingala non a caso pingala parte dalla base della narice fino e arriva fino al coccige e corre attraverso il midollo spinale nella parte destra e quindi è la corrente e elettrica energetica che tra le altre cose prenderà da quello che è il nostro intorno dall'aria e se vuoi dall'etere tutte le molecole positive gli elettroni positivi viceversa la parte sinistra quindi ida se vogliamo possiamo anche fare sole e luna in realtà il positivo sarà il sole e la sinistra sarà la negativa o la luna questo mi piace questa metafora perché anche nella radice del ata yoga a è sole e ta è luna quindi ritorna anche in quella che è nell'ata yoga questa ambivalenza tra positivo e negativo non dobbiamo dare le stesse accezioni che diamo noi abitualmente il negativo è tutto male e il positivo è tutto bene no ci sono sorprese tra le due cose però a larghe diciamo a sommi capi in queste due energie che ci corrono quindi ida a sinistra negativa lunare fredda pingala calda costruttiva quella del sole ci rischia che ci scalda corrono a proprio ai margini di quella che è la colonna e di un canale centrale che susciuma tutto ciò a parte perché noi non respiriamo sempre dalle stesse narici nello stesso tempo anche qui gli yogi che hanno osservato attentamente il respiro e come funziona il respiro hanno scoperto che noi alterniamo la respirazione 60 minuti con i con pingala con la destra 60 minuti con la sinistra con ida solo in pochi momenti si nel corso della giornata le due narici respirano contemporaneamente ora per lo yoga e questo momento per gli yogi questo momento quando si concentra nel canale centrale è altamente potente può essere distruttivo o può essere estremamente edificante ora da cosa perché cosa succede che c'è un grande afflusso di prana cioè il se l'essere umano non è capace con le con la con la con lo con le conoscenze che passa lo yoga per esempio con la meditazione o con certe maniere in questi momenti si spregiona molto prana molta energia detto in soldoni sostanzialmente questi momenti possono essere o distruttivi o edificanti da lì ecco la kundalini che passa effettivamente nel canale centrale a queste due vertiente a queste due poli l'alto e il basso sta a noi e sta nel chi si approssima si approssima allo yoga anche nella maniera più semplice sempre dall'umiltà concentrare l'energia sempre nella vertiente più più alta quindi più che pericolosa dovremmo ricordarci che è potente sì è pericolosa cambiano pensa che che c'è una cosa curiosa quando si respira nel a livello nel sushi ma quando l'energia il flusso energetico è nel sushi ma quindi nella metà del 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 canale neutro parlano che si possono avvenire anche grandi disgrazie come dire perché in realtà che cosa se non sappiamo misurare queste forze a livello anche collettivo potrebbero ora non ci spaventiamo realmente sempre e dobbiamo anche perché sono più spaventati di così in questo periodo penso che non potremmo essere esattamente però da lì il grande la grande esigenza sempre di ecco e da lì di controllare le no i nostri pensieri perché sostanzialmente la kundalini quando parliamo di questa come dire di questa possibilità che ci porta all'albero della conoscenza del bene o del male vabbè anche la nostra cultura è quella di appunto di di fare un'esperienza così forte che ci porta fuori dall'eden quindi utilizzando questa metafora fuori dalla nostra grande possibilità no di trascendere di trascenderci noi quindi credo che la possibilità naturalmente sono lì senza giudizio non giudichiamole grazie allora visto che stavamo accennando a questo momento storico in cui siamo un po in preda alle emozioni c'è chi giudica male quindi dall'illuminismo in poi il materialismo eccetera eccetera ma d'altro canto bisogna dire che viviamo anche in un mondo che da un lato sì c'è l'eccesso di razionalismo di materialismo dall'altro però siamo completamente dominati dalle emozioni lo si vede da moltissime cose dall'ego e anche da come mangiamo è un mondo dominato dalle emozioni mi ha colpito l'ultima intervista che abbiamo fatto a barbara goia che lei stessa diceva dovremmo vivere in un mondo meno emozionale da questo punto di vista subito pensato caspita meno emozionale poi ci ho ripensato e ho compreso cosa voleva dire diciamo che meno emozioni significherebbero più controllo sulla nostra vita buon controllo sulla nostra vita puoi dirci qualcosa a riguardo lo yoga aiuta questo senso assolutamente quello che ti dicevo all'inizio perché lo yoga è stato proprio pensato effettivamente per creare degli esseri sicuramente per dare la possibilità a tutti gli esseri di tornare a essere quello che erano ovvero degli esseri perfetti che siamo tutti perfetti realmente ora lo yoga naturalmente parte da una considerazione no che l'invisibile controlla il visibile nella nostra cultura così empiristica no dove abbiamo bisogno di sperimentare fare brigare no dimostrare con i titoli con con i premi no ci viene difficile no ci viene assolutamente difficile pensare che l'invisibile doma è quello che controlla il visibile e quindi è la mente che controlla la nostra vita in realtà ultimamente è vero che lo devo dire perché è vero che un fenomeno editoriale di qualche tempo addietro è stato il segreto immagino che molti dei tuoi ascoltatori lo conosceranno in realtà pone il dito su una conoscenza anche lì esoterica della nostra tradizione che in realtà appunto è assolutamente identica a quello che ti sto adesso per dire ovvero che appunto è il grande potere della mente i nostri pensieri come creiamo i nostri pensieri quindi la grande il grande controllo e la grande sfida è prima di tutto per lo yoga pulire perché il concetto di pulizia nello yoga è come dire centrale non a caso è centrale anche nelle azane cioè l'obiettivo è pulire il corpo e la mente pulire il corpo dalle tossine e lì ecco perché l'alimentazione che tu giustamente hai toccato è fondamentale perché se puliamo il nostro corpo dalle tossine ci alimentiamo nella migliore e nella più come dire candida delle maniere avremo un corpo pulito e sano la pulizia è in termini sempre anche lì ci sono i doppi significati no il primo strato è effettivamente una pulizia però è anche una pulizia veramente sottile di energie sottili quindi pulizia veramente di tossine e pulizia della parte più eterea del nostro corpo e quindi il concetto di pulire corpo e mente fondamentale nello yoga tutto quello che concerne la pulizia dei nostri pensieri ci aiuta a controllare i nostri pensieri ora abbiamo un altro concetto che è quello di batteria di volontà realmente tornando alla metafora di prima della mente che poi non è una metafora è un fatto reale però ci serve attaccarci a una metafora del magnete della calamite anche la nostra il nostro pensiero è una grande antenna è come una radio si sintonizza sulle lunghezze d'onde come dire dell'universo no? ora se noi ci sintonizziamo naturalmente con le con i pensieri e le energie migliori da lì cosa possiamo fare controllare tutta la nostra vita realmente anche in questo i grandi maestri yoghi che pare abbiano fatto miracoli e che in realtà che cosa hanno fatto questi maestri yoghi e quelli che sapevano queste regole e sintonizzarsi su queste lunghezze d'ondine d'onda riuscivano a leggere i pensieri degli altri e come con visioni vedendole e riuscivano anche a controllarle sempre con un fine positivo addirittura si può addirittura quando un maestro yoga è così eccelso nella sua traiettoria impeccabile riesce anche ad aiutare gli altri a progredire e quindi da lì la mente controlla tutto controlla tutte le nostre azioni da lì il grande concetto di tenere bene a bada queste questa mente da lì il potere e l'importanza di meditare perché la nostra mente salta no c'è chi appunto la definisce la grande scimmia i nostri pensieri sono sono frenetici no vanno di qui di là e quindi il controllo della vita è sostanzialmente questo riuscire a controllare la mente realmente a sintonizzarsi con la grande mente cosmica che tutto controlla certo grazie ascolta io so che nello yoga esistono otto passi fondamentali per arrivare poi a questo controllo ad avere la supremazia per arrivare diciamo a vivere qualcuno di quei segreti esoterici di cui accennavamo prima no perché si possono anche svelare ma fino a quando non ne fai esperienza come dice il tantrismo non progrediamo veramente quindi quali sono questi otto passaggi ce li puoi dire brevemente sì è curioso guarda lotto perché lo io l'otto anche ritorna chi conoscerà anche il buddismo comunque non a caso lotto è l'infinito allora sì per per quello che è il percorso dello yogi di quello lo yogi naturalmente è chi si avvicina e chi modestamente e negli anni inizia a praticare lo yoga la filosofia dello yoga vi sono otto passi il primo estremamente importante è la quella che gli ha che che in sanscrito si chiama yama lo yama cosa sono dei principi comportamentali e di fondamentali per la vita pacifica tra esseri umani li ritroviamo realmente anche nei nostri dieci comandamenti è la non violenza per esempio a in sa il non mentire è fondamentale per lo yoga e per lo yogi in particolar modo la donna è i yogini è che con che parlo di yogi però realmente anche quando parliamo di donne che si avvicinano prendiamo di una yogini e e quindi la verità è fondamentale per iniziare questo processo quindi sono pratiche comportamentali di sentito di senso assolutamente comune ma in realtà vabbè quando parliamo di senso comune capiamo sempre più in questa nostra società no che in realtà non è il senso comune si è perso e quindi dobbiamo andarlo a ricercare il non uccidere il non mentire il non rubare tutto questo è yama poi abbiamo il niyama del quale parlavo prima la pulizia e la pulizia è fisica e mentale in questo processo quindi queste due in queste due fasi sostanzialmente lo yoga prepara l'essere umano per 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 iniziare i passi successivi un corpo quindi una persona che non ha commesso dei dei delitti non ha rubato che non ha mentito può essere pronta per pulirsi incominciare realmente a pulire la sua testa da pensieri negativi e il suo corpo e il suo corpo da tossine naturalmente con una buona alimentazione così si prepara le asana le asana cosa sono delle posizioni principalmente e anche lì ritroviamo però in questo controllo della mente sul corpo per per tenere una posizione ritroviamo una grande pulizia perché in ogni asana come dice il grande maestro yengar ogni asana è una forma di disintossicazione ogni posizione ogni torsione è stata pensata proprio per disintossicarci da tutte queste tossine no che accumuliamo se posso permettermi sì ho visto che oggi un mini documentario dove diceva che in realtà lo lo yoga quello più spirituale in assoluto sono posizioni proprio basi che non ci sono grandi torsioni però queste torsioni sono assolutamente da praticare per disintossicarsi dopodiché la pratica rimane molto minimale da quello che ho capito pensa che sa vasana che è la posizione del morto ovvero del cadavere è una delle più semplici apparentemente perché dici devo stare devo rilassare tutti i muscoli del corpo no effettivamente anche per la mia insegnante e per moltissimi risulta essere e realmente quando la pratiche una delle più complicate perché realmente realmente non siamo capaci né di acquetare tutta la muscolatura tutto il sistema nervoso tutto il nostro processo di pensieri e quindi risulta veramente essere la più complicata in un certo in una certa maniera sostanzialmente ora questa pulizia passiamo a un altro grande passo che il pranayama tutte quelle tecniche di controllo del respiro che ci portano come ti dicevo prima addirittura portano i maestri se sono capaci alla levitazione del corpo no se sono capaci i maestri certo che sono capaci e tutti gli adepti naturalmente ci staranno dietro no gli adepti sono quelli che che seguiranno questi maestri che hanno raggiunto quindi col pranayama controlliamo una serie infinita di possibilità quelle che naturalmente trasmette la filosofia e che piace molto che trasmette la filosofia yoga e che piace molto agli occidentali da sempre dal primi momenti quando i grandi maestri hanno messo piede nel nel mondo occidentale sono piaciuti molto che è quello del tenere il corpo sano giovane quindi cercare di contrastare il processo naturale di invecchiamento del corpo il pranayama naturalmente è fondamentale dopo c'è prati prati aiara che l'autoconoscenza qua torniamo a socrate sostanzialmente è un passo fondamentale dopo siamo arrivati al quinto sostanzialmente che cos'è riuscire a essere introspettivi analizzarsi quindi sostanzialmente a conoscersi socrate non a caso ce lo ce lo dice no il conosci te stesso ma ce lo dicono tantissimi maestri e quindi è fondamentale quindi senza inganni logicamente cercare di mettere a nudo a di conoscerci nei nostri pregi e nei nostri difetti logicamente poi si arriva ad arana che è la capacità che ha il pensiero di concentrarsi di concentrarsi quindi di pensare un oggetto di vederlo materializzarlo no quindi di pensarlo e di rappresentarlo nella nostra nella nostra mente per poi passare a diana diana è proprio quando la mente ha toccato questo oggetto in diana c'è lo metà lo utilizziamo le facoltà della mente per per analizzarlo e perderci nell'oggetto per comprenderlo indiana lo tocchiamo o meditazione quindi però in qualche maniera ci fondiamo con l'oggetto dei no del nostro pensiero ed è questa la la meditazione e non a caso sappiamo che in questo processo c'è chi si perde i maestri yogi si perdevano per ore e ore no e ma non solo sicuramente anche Gesù Cristo e grandi anche Buddha sicuramente avevano questa grande capacità ma anche grandi personalità sono sicura che in questo perché nella meditazione appunto cerchiamo la fusione no con l'oggetto del pensiero e si arriva ultimo passo a nirvana o samadhi naturalmente questo è solo pochissimi questi che ti ho detto i più grandi arrivano ed è il grado dove realmente ti fondi con la con la sorgente per i più irraggiungibile perché perché effettivamente tutti questi passi necessitano di grande costanza metodicità umiltà è vero che a volte la la costanza io credo che una buona dose di umiltà ci ci possa far ovvero in questo senso ci possa fare avvicinare parlo di una grossa dosi di umiltà o in tutti i sensi soprattutto per riconoscere che forse il nirvana c'è negato o è più sarà negato e sono grandi mete naturalmente e quindi non dobbiamo vederla e poi non dobbiamo vederla con un senso con un senso di raggiungimento che è questo sempre parametro che abbiamo nella nostra cultura in realtà per quello umiltà 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 lo yoga innanzitutto riconoscere la la perfezione della filosofia la saggezza la 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 perfezione nella saggezza senti puoi darci qualche consiglio che in realtà insomma te lo chiedo riferito a me stessa nel senso che durante le lezioni di yoga io spesso vado in crisi perché soprattutto nel kundalini si assumono delle posizioni che sembrano semplicissime tu le vedi così e dici wow e poi stai in quella posizione un quarto d'ora quindi dopo qualche minuto il corpo inizia la mente si distrae insomma inizia a comprendere veramente fai un faccia faccia con i tuoi limiti quindi ogni lezione di yoga per me che non sono principiante ma neanche esperta ti direi che riassume una piccola crisi di me stessa che supero tornando poi a lezione di volta in volta puoi darci un consiglio magari su questo appunto perché parlavi di perfezione però in realtà c'è anche tanto questo elemento del sentirsi imperfetti quando fai la pratica c'è questo divario tra quello che leggi e il tuo corpo che è autolimitante cosa potresti dirci in merito ma ben venga in realtà parlavo di perfezione della saggezza perché questo effettivamente come dire la filosofia yoga è stata distillata nel tempo e i grandi maestri hanno distillato però per i più ma questo non ci deve spaventare nell'umiltà proprio c'è anche questo in primo luogo riconoscere esatto questo senso di frustrazione che del quale tu parli è sempre presente realmente leggo se pensi in moltissime delle posizioni e soprattutto quelle legate all'equilibrio costantemente messa a prova la nostra capacità di poter o non poter fare una cosa e in questo caso una bellissima per esempio posizione pensiamo per esempio alla figura dell'albero no è meravigliosa da vedersi a parte che appunto e tra altre cose la metafora stessa non a caso abbiamo yangar ha scritto l'albero dello yoga voglio dire è la metafora stessa parlavamo prima della kundalini no dell'albero della vita che ascende ed essendo così importante e dico quando la facciamo a volte sì possiamo non 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 farla bene perché può essere che la nostra mente non è allineata perfettamente per i yangar che sa come qualcuno saprà il maestro dell'alineazione del corpo magari la nostra muscolatura non essendo allineata ma perché magari è in quel momento la nostra mente fluttua vaga non è centrata può non uscire non non succede niente cioè nel senso non succede niente perché lì la grande sfida accettare che siamo imperfetti che siamo su un cammino che è la perfezione non è la meta perché la perfezione in realtà siamo perfetti siamo imperfetti e imperfetti perché se siamo come dicevo anche prima in questo è quella la grande anche sfida riconoscere la grande divinità che sta in noi la riconosciamo in questa pratica che è silenziosa e a volte frustrante dobbiamo riconoscere che dobbiamo accettare anche i nostri fallimenti ogni cammino è fatto di fallimenti ma per fortuna perché in questo processo di trasformazione no del 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 piombo in oro i tentativi sono innumerevoli e quindi ben venga il ben venga perché perché il nostro ego che in realtà che cos'è l'ego di fare una bella asana e lo vediamo nel fenomeno Instagram io a volte sono sbalordita da come realmente è esteticamente la nuova forma diciamo così il nuovo Helmut Newton sarebbe affascinatissimo no da e sicuramente verranno Helmut Newton nuove voglio dire citando Newton il grande fotografo della bellezza come dire appollinea di questi corpi nudi femminili o maschili e di fotografarli che richiama tra altre cose moltissimo a Reni Riefestahl quindi all'estetica nazista senza nessuna apologia ma nel senso che le cose sono così Helmut Newton prende questa estetica a grandi mani e la plasma con queste meravigliose foto scultore della bellezza scultore della bellezza del corpo no adoro questa donna voi non la conoscete ancora bene e lei oggi si sta un po' trattenendo ma le conversazioni io parlo con Alexandra Danni le conversazioni insieme a lei sono dei voli di dare ci veramente riesce a collegare sì che però oggi ti sei un po' trattenuta eh però qui iniziamo adesso si sta scaldando stiamo iniziando ma perché me l'hai messa su un piatto molto comodo d'argento perché effettivamente in questa tua frustrazione e poi c'è anche secondo me il il la io a volte dico caspita sembra un esercizio d'estetica in Instagram quando vediamo un sacco ecco ma in realtà è bellissimo non è senza critica è bellissimo perché realmente ecco il nuovo i nuovi Helmut Newton stanno fotografando questi meravigliosi corpi che lo yoga plasma in tutta la loro bellezza ora il pericolo qua è di asato togliergli l'anima di renderlo estremamente materiale quindi di togliergli la linfa per tornare alla metafora quindi che sia un contenuto vuoto quindi l'esercizio per se stesso la fotografia in sé è meravigliosa di questo corpo però non è questa la quintessenza ricordiamo la quintessenza è altra quindi benvengano tutti i momenti io credo di dove il tuo ego o come tu dicevi di frustrazioni in queste posizioni quando pratichi yoga in realtà è un segnale che siamo in realtà umili credo e anzi dobbiamo ritornare sempre all'umiltà a parte che in AIMSA ricordiamoci che AIMSA è non violenza verso gli altri ma anche verso la propria pratica quindi nel primo precetto della non violenza è anche di non farsi del male quindi logicamente se uno eccede in un esercizio di prodigioso funambulismo e si fa del male non ha fatto del bene a se stesso non ha fatto assolutamente un buon vantaggio alla sua salute fisicamente quindi ecco nella modestia non cerchiamo di arrivare alla grande foto in questo caso perché realmente è bello farla ma non è il nostro scopo nella nostra pratica diaria sostanzialmente certo allora io Alexandra vorrei farti un'ultima domanda in questo programma chiamiamolo abbiamo parlato spesso di luce luce vista da molti punti di vista dal più tecnico scientifico a quello più sottile allora la parola luce ha a che fare molto anche con lo yoga si parla più che altro di luce interiore ci vuoi chiudere questa bellissima conferenza con questo ok volentieri anche perché questa è una domanda bellissima che mi stai facendo perché arriviamo l'abbiamo l'abbiamo un po' toccato in questi ultimi passaggi sostanzialmente la luce interiore c'è una bellissima metafora per tornare alla nostra cultura giudaico cristiana nella cultura giudaica cristiana abbiamo nella sacralità del tempio abbiamo tre parti in realtà a livello biblico ahimè vi è una parte esterna laddove sappiamo che in questa fase biblica che io direi non è ancora evoluta gli adepti e chi voleva entrare nel tempio si puliva e sacrificava ahimè però come dire esteriore di preparazione teniamo la parte migliore la pulizia no quindi una pulizia di piedi di togliersi per esempio i calzari di prepararsi no per entrare in una parte sacra che è il tempio e in questo tempio che cosa abbiamo una parte ancora più sacra e segreta che è il tabernacolo ora nella nostra cultura appunto come ti dicevo giudaico cristiana in questo tabernacolo abbiamo la famosa arca dell'alleanza no in questo tabernacolo è rappresentata e cosa rappresenta realmente appunto vabbè una serie di conoscenze e sapere ma è lì a come dire luogo lo spirito non a caso se si è se emana questa luce questa luce dal tabernacolo vuol dire che dio c'è in questo templo è un tempio come dire vivo e vivente e alla presenza di dio no ora questa metafora ci serve per rappresentare per aiutarci a comprendere che quello che dobbiamo cercare allora l'esterno lo sappiamo cos'è il nostro corpo è il tempio perché per lo yoga il nostro corpo è un tempio ed è scoprire ed è scoprire soprattutto che è un tempio perché in realtà a volte non lo consideriamo tempio ecco da lì la importanza di rispettarlo amarlo curarlo pulirlo non gli fargli nessun danno con una pratica violenta anche della stessa postura della postura pardon a volte scusatemi perché metto qualche parolina in spagnolo ormai gli anni vivendo in spagna creano un gap nel cervello quindi nelle nostre posizioni a volte possiamo forzare quindi rispettando il corpo e considerandolo un tempio dobbiamo trovare questa luce interna che è quella che ti dicevo appunto che c'è in questi tabernacoli no che l'abbiamo sempre vista no c'era sempre una luce no se ti ricordi nelle chiese no dove lì si mette l'ossia no il corpo perdonami è la luce poi di estia no credo sì è una luce prende diversi nomi a volte adesso non voglio entrare nello specifico perché però sopra questa arca tra altre cose ci sono due cherubini è una luce di protezione ed è di vita sostanzialmente e quindi rappresenta a livello metaforico quella che abbiamo noi ora come come troviamo questa luce allora in realtà la chiave ed è nel silenzio nel silenzio della meditazione possiamo iniziare ad ascoltare questa luce che abbiamo e che è lo spirito però prima di tutto dobbiamo riconoscere che siamo spirito non a caso spirito vedi esatto c'è sempre la fiamma no c'è sempre la luce no e quindi naturalmente dobbiamo accettare e riconoscere la nostra parte come dire spirituale però una volta che abbiamo abbattuto i pregiudizi perché a volte ce li abbiamo nella nostra cultura di non credere che c'è questo spirito questa anima questa luce no allora quando abbiamo abbattuto il pregiudizio nel silenzio che veramente è il maestro dei maestri e in questo silenzio i maestri hanno trovato l'illuminazione e hanno saputo ascoltare il proprio spirito parla il nostro spirito per risonanza come dicevamo prima se siamo grandi magneti siamo tutti magneti in questo non possiamo esimerci di corrispondere a queste leggi risuonerà lo spirito il nostro piccolo spirito risuonerà con il grande spirito e quindi anche lì per risonanza saremo ancora più alimentati la nostra luce sarà retroalimentata dalla grande luce cioè dal grande spirito in realtà esatto siamo una piccola parte del grande spirito universale mente cosmica i nomi sono infiniti quindi in questo silenzio è fondamentale bisogna trovarlo esattamente nel corso della giornata cosa ci consigliano in questo è un ammonimento io realmente anche a me stessa perché io sì da anni pratico lo yoga e devo riconoscerti che a volte la parte più praticata è l'oghiata ovvero le posizioni le asana perché a parte la bellezza in molte c'è limitazione della natura quindi degli animali e in questo sono estremamente affascinata però ecco perché te lo dico perché in molti anni ho sempre amato moltissimo le asana vuoi perché ho sentito un beneficio fisico immediato una capacità di notare una un risveglio di energia potente invece quello che è il silenzio è il grande sconosciuto il grande sconosciuto lo dico io che vivo una grande città come a madrid per alcuni anni ho fatto una vita frenetica lavorando in multinazionali quindi con un certo ritmo dove 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 sostanzialmente il silenzio non esiste perché anche quando è silenzio in realtà non è mai silenzio e quindi il silenzio è l'università delle università il nostro luogo sacro ancora più sacro perché il luogo segretissimo no dove poter far accendere questa luce e la luce noi ce l'abbiamo tutti e lì sempre che poi dopo la riconosciamo è un altro paio di maniche ce l'abbiamo ora si tratta di vederla e di come dire dargli la risonanza di quindi retroalimentarla quando vibra in consonanza con il grande spirito certo molto bello grazie da lì mi viene da dire non a caso in tutte le culture anche in tutti i grandi monasteri voglio dire trasversale questa ricerca del silenzio è tanto trasversale che che in realtà da lì ecco tutto la cultura dello yoga in realtà è insita ti dico credo anche nella la nostra nostra e se lo sappiamo riconoscere voglio dire da san francesco d'assisi san benedetto nessuno luogo o nessun monastero no si cerca il caos in tutti non a caso la prima è il silenzio e non è un caso no non è un caso che che è che che sia no la 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 chiave e dopo questo discorso qualunque parola mi sembra però però c'è una domanda da un ascoltatore che ti chiedeva se hai un paio di libri da consigliare magari sugli otto passi o su qualche esercizio psico fisico simone chiede no simone adesso ho perso l'ascoltatore beh libri allora nello yoga io consiglierei torniamo sempre alla metafora l'albero dello yoga di yangar che è un meraviglioso libro che ha simone appassionerà appassionerà tutti e anche eh un libro che naturalmente dal quale eh io ho tratto molte delle notizie eh del quale stiamo parlando stasera che i segreti dello yoga di ehm ehm hanel l'albero dello yoga ha un approccio magnifico yangar è un grandissimo maestro hanel è un ehm un occidentale innamorato dello yoga però ecco io lo consiglio perché naturalmente parla di questa parte più occulta esoterica quindi per chi vuole approfondire leggere e i segreti dello yoga è pubblicato da mh area 51 credo mh mh ok sì se volete poi magari li metto nel nel box qui dell'intervista così i titoli così li potete ritrovare chi volesse e va bene io avete magari un'altra domanda da fare ad l'alessandra abbiamo ancora qualche minuto per rapirla dopo di che la devo lasciare andare intanto ti leggo il bellissimo commento di alessandro murgia che dice una conferenza molto bella lo yoga visto alla luce del suo aspetto esoterico assume tutto un altro significato complimenti soprattutto per aver sottolineato l'aspetto dell'umiltà spesso nella nostra società si vuole ottenere tutto e subito ma discipline come lo yoga e altre richiedono proprio pazienza umiltà dedizione e superare aggiungerei tutte le crisi di cui parlavo io prima appunto grazie alessandro grazie mille sì va bene ok è stato molto bello io prima di ringraziare tutti voi per l'ultima volta alexandra vi voglio ricordare i prossimi appuntamenti abbiamo il 14 l'intervista in cui parleremo della relazione vibrazionale quindi tra le emozioni e il nostro corpo fisico con ludmilla wolf invece il 18 avremo l'intervista alla monaca mahayana tsudog di cui con la quale parleremo di moltissime cose in particolar modo le nobili verità dalle nobili verità torniamo al nobile silenzio di alexandra ci vuoi lasciare con un'ultima frase con un mantra con quello che vuoi dimmi tu ma io sì volevo leggervi delle affermazioni che mi ero segnata perché credo un'altra un'altra cosa importante nel nell'esercizio di umiltà e in quello che dicevamo prima dare valore alla nostra mente quindi a questa soprattutto in questi momenti no e un piccolo consiglio naturalmente credo che già altre persone in questo bombardamento di notizie negative dobbiamo assolutamente spegnere la televisione non informarci non alimentare la nostra mente di pensieri negativi la notizia negativa non ci aiuta e non ci apporta anzi ci distrae e forse è quello il problema più grande questa distrazione dal potere invece grandissimo che abbiamo ora se invece vogliamo fare un buon servizio alla nostra mente e fare affermazioni positive oltre a questo sacro silenzio che dobbiamo dedicare nella nostra giornata per dedicarci tempo per poter ascoltare il nostro spirito che sicuramente si metterà in risonanza col grande spirito fare delle affermazioni positive e fare delle performazioni mattina o sera ci aiuta a dare naturalmente a controllare la nostra vita ci sono due bellissime affermazioni che leggevo in questo libro che vi dicevo del segreti dello yoga di Charles Hanel che ho segnato e che ve le voglio leggere lo spirito è il vero elisir di lunga vita la pietra filosofale la sorgente della vita eterna la forza trasformante che converte in oro di verità tutto ciò che sembrava oscuro e misterioso nel passato io sono dunque capace di esprimere i miei più alti desideri in parole e opere per l'umanità e qui possiamo mettere tutti i grandi sogni di prosperità di superare per tutta la nostra umanità di passare il grande cambio di passare a una nuova fase a quella tanta agognata della golden age no? e poi lo spirito è ogni presente ed è tutta la vita tutta la forza e tutta la potenza io dunque creo costantemente il mio ambiente e questo ambiente è sano edificante piacevole stimolante e offre grandi opportunità per ogni realizzazione umana e tutte le affermazioni positive che possiamo crearci e ripetere nella giornata sempre anche di panteismo più abbracciamo i nostri fratelli esseri umani i nostri fratelli animali la natura nei nostri questi pensieri di realizzazione io credo che facciamo ci facciamo un grande servizio anche a noi grazie infinite grazie a tutti voi non vi mando a fare lezione di yoga ad Alexandra a meno che non siate a Madrid però credo che Alexandra sia disponibile eventualmente per consulenze individuali vi lascerò i riferimenti qui nel box dell'intervista namaskar a tutti grazie e buonanotte